Nel breviario, il libro con cui i sacerdoti devono pregare tutti i giorni, pena la, non so se la sospensione a divini, sulla scomunica, roba di questo genere, in questo la chiesa è molto rigida, molto ferma. I preti hanno un dovere importantissimo che è quello di pregare tutti i giorni alle ore e stabilite, che è abbastanza come quantità, certamente molto meno rispetto al breviario tradizionale, era il breviarium romanum, però ancora adesso i preti hanno parecchio da pregare. Perché la chiesa nella sua sapienza sapeva, forse se ne è dimenticato in questi tempi, che la primaria funzione del sacerdote è quella di intercedere presso Dio per il popolo di Dio. E come lo fa? Attraverso la preghiera. Quale preghiera? La preghiera della chiesa stessa, che utilizza in particolare i 150 salmi, che servono proprio per aprire una porta per l'eternità, perché l'uomo che vive nella paura della morte, vedi seguito, casca nel peccato, ed è inevitabile che poi, se non ha una prospettiva di vita eterna, si invischi nel fango delle cose umane, ma quelle che ti invischiano, che non ti fanno guardare il cielo. Allora il prete deve innanzitutto essere un uomo di cielo, un uomo che guarda il cielo, che vive nel cielo, e che poi tira su le persone per fargli vedere qualche cosa di più alto che la vita del qui ed ora. Nel breviario, dicevo, c'è una parte del discorso sui pastori di Sant'Agostino Vescovo, che sono delle parole durissime ai pastori, che fa Sant'Agostino riprendendo il libro del profeta Ezechiele, capitolo 34, 1, 16. Vi voglio leggere alcuni brani del discorso sui pastori di Sant'Agostino Vescovo. Tutta la nostra speranza è in Cristo, egli è tutta la nostra gloria, gloria vera e salutare, non la gloria mondana del potere, del successo, del denaro e di altre cose. La vostra carità non ode oggi per la prima volta queste cose. Voi infatti appartenete al greggio di colui che provvidamente pace Israele. Ma siccome ci sono pastori che amano essere chiamati pastori mentre si rifiutano di adempiere l'ufficio di pastori, scorriamo le parole ad essi rivolte dal profeta secondo la lettura che abbiamo orora ascoltato. Voi ascoltate con attenzione, noi ascolteremo con tremore. Perché era lui che predicava, Sant'Agostino, che dice voi fedeli ascoltate con attenzione, ma noi, cioè io come Vescovo, devo ascoltare con tremore perché si sta rivolgendo a me. E sono parole durissime. Però vorrei anche ricordare che anche noi laici, quando siamo responsabili di qualcuno che viene sotto di noi, siamo pastori. Io sono in un certo senso pastore per i miei figli, per le persone che mi seguono, che dipendono da me in qualche misura, culturalmente, spiritualmente, ma innanzitutto per i miei figli, un insegnante per i suoi studenti, eccetera. E quindi questo discorso sui pastori, cioè che guidano gli altri a pascoli, che non sono i loro pascoli, sono i pascoli della vita eterna, è un discorso che tutti noi cristiani possiamo e dobbiamo recepire. Il Signore mi rivolse la parola e mi disse figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele e dia ai pastori d'Israele. Allora, vorrei fare una piccola parentesi. C'è sempre il solito cristiano che la sa più lunga degli altri, che dice, no, noi non dobbiamo fare niente contro, noi siamo solo per. Mi spiace, sei al di fuori della fede cattolica. Profetizza contro i pastori d'Israele. Contro. Perché quando si ama qualche cosa, si è disposti a morire e a combattere contro il nemico che sta attentando, contro quello che tu stai difendendo e che ami. Se io amo mia moglie e i miei figli, devo essere disposto a combattere fino alla morte, e la morte innanzitutto dell'aggressore ingiusto, di coloro che vogliono attentare alla loro vita, alla loro dignità. Chiuso la parentesi. Per i cristiani che credono di essere più intelligenti, tutti sul positivo, no il negativo, no no no, non esiste positivo senza il negativo. Un elettricista lo sa perfettamente. Abbiamo ascoltato poc'anzi la lettura di questo testo, sul quale abbiamo stabilito di intrattenerci alquanto con la vostra santità. Ci aiuterà il Signore a dirvi il vero. A ciò riusciremo se non presumeremo dirvi cose nostre. Vale a dire, preti, attenzione! Non dite le vostre piccole, inutili idee. Partorite dalla vostra testolina, piccola e spesso bacata. Voi siete lì come ministri, vuol dire amministratori di qualcosa che non è vostro, ma che è di Dio, è la parola di Dio, la grazia di Dio, non la vostra piccola interpretazione secondo la vostra piccola, mentre la vostra piccola cultura, no! Date il Vangelo così com'è e vedrete che avete risultati. Date voi stessi e vedrete che avete risultati, sì, qualcuno ne avrete, ma scarsi e spesso che si trasmuteranno in non in buon frumento per il pane, ma in gramigna che non produce niente. Infatti, se diremo del nostro, saremo pastori che pasciamo noi stessi, non le pecore. Se invece ci viene dal Signore quello che diciamo, qualunque sia la persona che vi pace, è sempre il Signore a pascervi. Queste cose, dice il Signore il Dio, guai ai pastori di Israele, essi pascono soltanto se stessi, non è invece compito dei pastori pascere le pecore? Vuol dire, i pastori non debbono pascere se stessi, ma le pecore. Sicché questo è il primo motivo per cui vengono rimproverati tali pastori, perché pascono se stessi e non le pecore. Isaia e Sant'Agostino. Allora, uno dei problemi gravi della Chiesa di allora, quindi prima ancora che nascesse la Chiesa al tempo, cioè, di Israele, dell'Antico Israele, ma poi di Sant'Agostino, e siamo nei primissimi secoli della Chiesa, era che i pastori, preti, vescovi, cardinali, papi, via di seguito, passevano se stessi. Vale a dire, secondo quello che dice Sant'Agostino e il profeta Isaia, propongono le proprie idee. Non vi piace? È così lo stesso. Continua Sant'Agostino. Chi sono coloro che pascono se stessi? Sono coloro dei quali, dice l'Apostolo, tutti cercano i propri interessi, non gli interessi di Gesù Cristo. consideriamo un istante noi stessi, cioè io considero un pochino me stesso, la mia vita, il mio lavoro, la mia famiglia, la mia giornata, tu la tua, se sei prete, se sei laico, se sei suora, monaca, o quello che sia. Il Signore ci ha posti in questo luogo, di cui dovremmo rendere stretto conto, per un tratto della sua condiscendenza, e non certo per i nostri meriti. Ebbene, noi siamo insigniti di due dignità, che occorre ben distinguere. La dignità di cristiani, e quella di vescovi. Lui sta parlando di se stesso in quel momento. Lui è cristiano, e lo dice altrove. Io sono cristiano con voi, ma vescovo per voi. O io posso dire, io sono cristiano con i miei figli, ma sono padre per i miei figli. La prima, cioè l'essere cristiani, è per noi. L'altra, cioè l'essere vescovi, o pastori, è per voi. Nel fatto di essere cristiani, vanno sottolineati i vantaggi che derivano a noi. Nel fatto di essere vescovi, ciò che conta è esclusivamente la vostra, cioè del greggio, utilità. Vi sono molti che, essendo cristiani e non vescovi, sentite bene, raggiungono Dio, e la loro via è forse più agevole che non la nostra. ed essi possono camminare tanto più spediti quanto più è leggero il peso che portano. Sta dicendo, ci sono dei cristiani normali che arrivano in cielo più spediti, e forse ci arrivano certi vescovi, no, più spediti che tanti vescovi, con tanto di pancia, di mitria e di pastorale. Noi invece, oltre ad essere cristiani, per cui dovremmo rendere conto a Dio della nostra vita, siamo anche vescovi, e quindi dovremmo rendergli conto anche del nostro ministero. Hanno due pesi, certo due onori, ma anche due pesi, gli devono rendere maggior conto a Dio. Vi faccio presente tale difficile situazione, affinché vogliate compatirci e pregare per noi. Dobbiamo quindi pregare per i nostri pastori. Quante volte sentiamo anche delle apparizioni, la Madonna, di seguito, di pregare per i nostri pastori. Giusto, giustissimo, hanno tanto bisogno, ma questo non significa che dobbiamo dire sempre di sì ai nostri pastori, soprattutto quando dicono o fanno delle bestialità. Verrà infatti il giorno in cui tutto sarà sottoposto a giudizio, e quel giudizio, se per il mondo intero è lontano, per i singoli uomini è vicino, coincidendo con l'ultimo giorno della propria vita. Inoltre Dio ha voluto che a noi fosse celato sia il giorno della fine del mondo, e quindi quando vi dicono ah ma siamo nei tempi, negli ultimi tempi, qua e là, ma questi sono i segni dell'avvertimento, dell'apocalisse della fine del mondo, chi vi dice queste cose scappate lontano da lui, perché Gesù Cristo l'ha detto chiaramente, che nemmeno lui come figlio del padre sapeva il giorno e l'ora, figuriamoci se lo sa il mago Telma, Nostradamus, o il veggente di non importa come, che sia prete o che non sia prete, no, non lo sa, non sa niente, non sa un bel niente, e se ti spaccia queste bubole vuol dire che è un ingannatore. Quindi solo Dio conosce il giorno e l'ora della fine del tempi e anche quella della fine dei singoli uomini, per cui vuoi non aver paura del giorno che non conosci? Cioè, abbi paura, abbi timore di Dio, perché devi sapere che sarai chiamato a rendere conto, io e tutti, quando? Forse fra cinque minuti, forse fra cinque minuti mi viene un infarto, muoio e mi trovo al cospetto di Dio, allora devo domandarmi, ma sono in grazia di Dio? Se muoio adesso, vado in paradiso, oppure c'ho un peccatuccio lì nascosto che mi tengo bello in caldo, che mi piace tanto, è bravo. E se muori adesso? Dove vai? Attenzione, viviamo in grazia di Dio, perché la salvezza eterna è l'unica cosa che valga. Andremo avanti con la lettura di questo bellissimo discorso sui pastori, perché è davvero un aiuto enorme per noi laici, ma anche per i nostri preti. Grazie.